L'Austria dice addio alle sigarette in caffetterie e ristoranti, ma solo a partire dal 2018, dopo anni di accese discussioni nel paese dove la cultura del caffè è un'istituzione. Ci siamo uniti all'Europa per quanto riguarda la tutela dei non fumatori, ha annunciato la Ministra della Salute, Zabine Oberhauser. Le sigarette sono già vietate nei luoghi pubblici in Austria, in base a una legge del 2009, ma caffè e ristoranti erano stati esentati, mentre il governo ammette che la normativa non è applicata severamente. Il futuro divieto di fumo riguarderà anche le sigarette elettroniche, ma farà eccezione per gli hotel, che potranno mantenere le camere dove le bionde sono ammesse.